Sei pronto a divertirti con Doc? Sì, vediamo come! Sì, vediamo! Bene, abbiamo iniziato a programmare, ora divertiamoci con nuove sfide! Sì, vediamo! Vediamo l'obiettivo che Doc ci dirà! Dobbiamo raggiungere il pesce! Giusto, sei spaziale! Ora troviamo la lettera P! Oh oh! Localizzazione errata! Riproviamo! P! Fantastico! Ora che sei un vero esperto, divertiamoci con la programmazione avanzata! Partiamo per questa missione! Libro! Libro! Bel colpo! Biblioteca! Fantastico! I miei fusibili sono nella casella giusta! Tutto chiaro? E allora buon divertimento con Sapientino e Doc!